Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito mute. Al termine della finale della Pro League potrebbe esservi apparsa la notifica di un nostro nuovo video, perché dopo il scontato che abbiate attivato tutti la campanella. Effettivamente si trattava della mia prova in anteprima mondiale dei nuovi operatori e della nuova mappa, in compagnia del super team di YouTubers. Tra l'altro nel video c'è anche lo spacchettamento degli alfapack reali che ci ha regalato Ubisoft. Ho dovuto rimuoverlo e poi ricaricarlo perché il mio pc aveva deciso di fare il simpaticone e di distruggerlo totalmente. Quindi appena finite questo video andate a recuperarlo, ve lo lascio nella scheda finale. In sottofondo state vedendo la presentazione ufficiale dei due nuovi operatori che è stata mostrata prima della finalissima. Voglio fare un passaggio sulla questione counter che non avevo ancora trattato e poi passiamo ad altro. Per quanto riguarda Noband il suo pugno d'aria ha effetto su tutti i difensori e raggiunge il top contro Clash con lo scudo esteso, poiché oltre a spingerla all'indietro lasciandola in ginocchio, la costringe a spostare lo scudo alle spalle, quindi la rende vulnerabile. L'onda d'urto non viene attivata al passaggio degli attaccanti, ma ha effetto sui compagni di squadra che si trovano nei pressi del difensore che ne causa l'innesco. Questo gadget è utilissimo per proteggere il defuser in artificieri, perché è anche in grado di allontanare gli operatori che tentano il disinnesco. Come prevedibile, gli ADS Dieger neutralizzano le trappole dell'operatrice marocchina, che vengono distrutte anche da proiettili, esplosioni e superfici elettrificate. Per quanto riguarda Kaid, il ragionamento è più complesso. Non andrà a sostituire Bandit, scordatevelo! Il cosiddetto Bandit Trick è un'esclusiva dell'operatore tedesco. L'elettroartiglio infatti ha bisogno di circa 4 secondi per entrare in funzione, e mentre è possibile distruggere le cariche di Bana, piazzandolo in contemporanea con la loro attivazione, non è possibile farlo con Thermite. Non avrete il tempo necessario. Sappiate anche che le scosse elettriche e le pareti saranno molto più visibili rispetto a prima. I vantaggi del gadget di Kaid sono legati principalmente al suo posizionamento. Oltre alla possibilità di coprire più pareti ed oggetti rispetto a Bandit, può nascondere il suo ortila. Non è una cosa da poco, soprattutto dopo l'introduzione di Maverick, che spesso è utilizzato come alternativa a Thatcher per neutralizzare le batterie o i jammer. In questo caso non potrà dare per scontata la posizione del gadget, e in alcuni casi secondo me sarà possibile nasconderlo totalmente. Non vedo l'ora di scoprire tutti gli spot e di portarveli sul canale. Ovviamente anche Kaid ha dei counter, parliamo dei soliti Thatcher, IQ e Twitch. Durante il panel è stato mostrato anche un teaser per Blitz Elite. Secondo me è una delle skin più belle mai create, sto seriamente pensando di acquistarla. Il set sarà disponibile dal 22 novembre, quindi ben prima del rilascio di Operation with Bastion, che al momento non ha ancora una data ufficiale, ma noi abbiamo già detto che probabilmente sarà intorno al 4 dicembre. Al contrario però abbiamo la data ufficiale dei TTS, i server del test tecnico disponibili solo su computer, che andranno online martedì 20 novembre. Troverete tutti gli orari sul nostro profilo Instagram e sulla pagina Facebook. Per quanto riguarda la mappa, durante la presentazione hanno detto una cosa che mi ha super triggerato. Sarà piena di easter egg e alcuni saranno raggiungibili solo col drone. Il vostro investigatore di fiducia si metterà subito al lavoro per mostrarveli appena possibile. Per quanto riguarda la Pro League, l'impostazione del torneo resterà B o 1, quindi su partita secca, ovviamente tranne le fasi finali. Ma i round per la vittoria aumenteranno a 7 e ogni team ne giocherà ben 6 di fila in difesa o in attacco prima del cambio di lato. La notizia assurda è il permabandi Lion. Non potrà più essere scelto nelle competizioni ufficiali. Ovviamente non c'entra nulla con le ranked, li potrete usarlo. La Ubisoft comunque procederà con un rework quanto prima per poterlo reinserire, ma per ora non lo vedremo più in Pro League e simili. Sono state mostrate anche le nuove uniformi dei team e si è parlato del premio del Six Invitational. I vincitori dovranno dividersi un milione di dollari. Io lo sapevo che dovevo fare il Pro Player. In tantissimi ci avete chiesto informazioni sull'anno 4 di Rainbow Six. Non ne hanno parlato, ma non dovremo aspettare fino al Six Invitational di febbraio per scoprire qualcosa. Arriveranno news al riguardo durante Operation with Bastion. Ecco perché vi dico sempre di attivare la campanella del canale. Mettete che vi pubblico all'improvviso un video al riguardo e voi non me ne accorgete. Dai, vi lascio 3 secondi per attivarla. Benissimo. Vi ricordo che abbiamo aperto anche il canale di Twitch per giocare in live con voi e a partire da questa settimana streameremo quasi tutti i giorni. Vi lascio il link nel commento fissato in alto e in descrizione. Ma semplicemente vi basta cercarci come Rainbow 6 Itacom, tutto attaccato. Dunque, se il video vi è piaciuto bombardatelo di like e condividetelo con i vostri amici. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao.